Lei potrebbe dirmi, maestro, qualcosa che non ha detto ancora a nessuno? Ce l'ha qualche, non so, una cosa nascosta, il suo segreto, un magari evento, qualcosa che ancora non ha raccontato? Magari da bambino? Magari. Ma cosa direi che non l'ho raccontato? Penso che ho raccontato tutto quello che si può raccontare. Tutto quello che si può raccontare. Ma cosa direi? Magari qualcosa. Ah, di direi un segreto. Tutto il mondo sa che io sono un gran fan, fan del Real Madrid, ma al tempo che ero a Barcellona a abitare, ero nel Real Madrid, però mi piaceva molto il Barcellona. Questo è quasi segreto, non? È un segreto.